E' una goccia d'acqua, la mascotta della GSA, che guida un bambino lungo il percorso dell'acqua dalla montagna ai rubinetti degli Aquilani. Un viaggio nell'idromondo e questo è il progetto pensato dalla Gran Sasso Acqua, dedicato alle scuole e per far comprendere ai bambini la salubrità dell'acqua che sgorga direttamente dal rubinetto di casa. Ho cercato di capire quale poteva essere la strada più immediata per far sì che i bambini entrassero nella storia della nostra acqua, la storia di tutti i giorni, cioè da dove arriva la nostra acqua. Un'idea che è venuta da un'esigenza, che è quella della non conoscenza di quello che accade nella nostra realtà, nello specifico nella città dell'Aquila, tutta l'Aquila Est e la parte della Piana di Navelli e della Valle Subbequana, che sono realtà rifornite all'utenza da acqua dell'Acquedotto del Gran Sasso. Un'acqua per la quale noi abbiamo avviato la procedura di riconoscimento e di certificazione di acqua oligominerale. Gli studenti delle scuole aquilane hanno affollato due sale del Cinema Moviplex per assistere alla proiezione in anteprima del viaggio nell'idromondo. Il DVD sarà distribuito nelle scuole per i piccoli studenti, ma soprattutto si conta attraverso di loro di sensibilizzare anche gli adulti sulla bontà dell'acqua del rubinetto.